Dal sito della Federazione Italiana Bocce, la società Sant'Angelo Montegrillo ha comunicato che non parteciperà all'incontro. Tradotto in soldoni, ciò significa che la bocciofila Possaccio, vista l'assenza dell'avversario, vincerà l'incontro previsto in un primo tempo per sabato prossimo a Verbagna e sopravanzerà gli umbri di un punto, acquisendo in tal modo il diritto a giocare nella prossima stagione il campionato di A1, che a quanto sembra sarà ancora una volta diviso in due gironi. Per la prima volta una società piemontese dirà avrà quest'onore, che però è anche un onere. Sabato, invece di giocarsi la promozione, sei giocatori della squadra, Chiappella, Paone, Signorini, Turuani, Campisi e Martinoli, cui si sono aggiunti per la prossima impegnativa stagione due grandi dirraffismo italiano, Giovanni Scichittano e Cristian Andreani, si sfideranno in una gara per singolaristi. Poi la sera ci sarà la cena e la festa della promozione. Lo storico risultato reso felice prima di tutti il presidente del Possaccio Dario Mazzolini, lo storico DS del gruppo Antonio Riva e il suo successore nel ruolo Sergio Tosi, che nel frattempo ha sostenuto a Roma gli esami per diventare direttore tecnico. Non mancheranno sabato le telecamere della nostra emittente per testimoniare l'evento.